Ora, noi assolutamente accompagneremo questa fase, ma mi preme qui ribadire con fermezza il nostro punto di vista, e lo dico in nome del nostro Paese. Guardiamola meglio la soluzione che stiamo proponendo, affiniamola, discutiamone, ma quella è, secondo noi, l'unica pista possibile, lavorare attorno a questo doppio registro. E' realistico, è credibile, noi pensiamo che questo tema non potrà che riproporsi in questi termini se vogliamo dare una soluzione al problema che abbiamo, che non può essere risolto andando a fare nuove elezioni, può essere risolto solo dando un segno, ripeto, governabilità e cambiamento. Dice, poi me lo chiederete, ma ve lo dico subito, dice Bersani, quella è la strada, è la strada che ha detto il PD. Se Bersani serve per aiutare questa strada, Bersani c'è. Se Bersani fosse un ostacolo su questa strada, Bersani è a disposizione, perché prima di tutto c'è l'Italia. Questa è, credo in parole chiare, la nostra posizione. A voi per le domande.